eccoci qui allora è lo stesso giorno in cui ho girato il video haul dello shopping natalizio fatto da prenatal e ho avuto quest'idea di farvi vedere la stanzetta di Bianca scusate se ho l'affanno ma è normale ve lo ripeto ormai in ogni video quindi ora io giro la telecamera e vi faccio entrare nel nostro mondo vediamo eccoci qui allora sulla porta io ho attaccato le letterine che formano il suo nome e le ho prese alla tunna si entra e questo è il suo mondo sono emozionata nel farvelo vedere perché ancora non l'ho fatto vedere a qualcuno delle persone che sono a me vicine allora questo è il trio che noi abbiamo scelto ovviamente manca il passeggino che monteremo in seguito è il trio dell'inglesina aptica xt cosa cambia nella versione classica dell'inglesina il fatto che ha le ruote 4x4 è una montatura più sportiva questo è il porta fa che noi già abbiamo preparato pieno 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 di pelusini per la mia bimba ecco qui quindi siamo un po stretti perché ci sono delle cose che ovviamente ancora non utilizziamo tipo un mangia pannolini ne abbiamo due due perché noi abbondiamo sempre sulla parete qui c'è questa appendino questa sorta di decoro che abbiamo preso da meson du monde allora molte cose che vedrete le abbiamo prese da meson du monde qui c'è questo divano che sembra in me insomma è sicuro che non lo è con questi cuscini e questo copritivano che noi abbiamo preso da meson du monde questo è rosa e anche cuscini li abbiamo presi tutti lì queste mensolette le abbiamo presi da meson du monde e anche le cose che ci sono sopra d'eccezione di questo che è stato un regalo di una patata di una mia amica e di questi che sono stati altri due regali di altre due persone molto importanti le altre cose meson du monde qui c'è il secondo mangia pannolini perché uno non lo sapevamo ma è stato è uscito dal fasciatoio questo è il sediolone che c'è stato regalato dalla sorella di mio marito da mia cognata che è il pegg perego prima pappa versione mon amour pegg perego ha fatto questa tutta la sua linea nella versione mon amour che è di questo colore rosa e oro rosa questo qui lasciate stare queste cose che sono anche questo il regalo che noi abbiamo deciso già di posizionare qui ovviamente il il sediolone non verrà utilizzato da bianca all'inizio però abbiamo già posizionato nella stanzetta qui c'è un cestino qui anche sweet dreams sempre presa da meson du monde questa cassetti era presa da meson du monde e questo è il cesto con tutti i prodotti per il bagno che le ho fatto io ho comprato il cesto tutti i prodotti e le ho fatto il cesto per per quando fare il bagnetto questo l'ho appoggiato qui e lo scalda biberon e dietro c'è la tiralatte che c'è della chicco televisione che dovrà essere appesa qui c'è questo che è una lampada che si accende poi e così si spegne qui troviamo una libreria sì anche questa è stata presa da meson du monde come anche queste lucine che ci sono sopra sono state prese da meson du monde questi peluche sono stati un regalo come tutte le cose che stanno qui poi qui c'è il suo armadio che vi spoilerò ok sotto ci sono le cose per creare poi il tavolo di benvenuto quindi non vi faccio vedere quello è un altro armadio questa è la culla della foppa pedretti e io l'ho già preparata così con i paracolpi con la treccia il piumino questo qui che è un carillon questo deve essere girato ok sia questo che questo aspettate che questo sono tutti della chicco questo in collaborazione con la disney gli altri gli altri invece no quindi questa è la culla poi in camera da letto invece c'è la next to me questo tappeto a forma di stella bianco delicatissimo preso da meson du monde la fasciatoio preso da meson poi se volete vi faccio vedere come organizzato io il fasciatoio con tutte le cosine che possono servire ok e sopra c'è il cuscino per l'allattamento sempre preso da pre natal che è questo qua rosa qui c'è una nuvoletta che è una una lampadina si accende comunque funziona come una bajur e quelle la porta questa è la stanzetta della nostra principessa c'è già una sediolina di quelle che si autodondolano anche questo è stato un regalo già l'abbiamo montata e basta questa è la panoramica spero che vi sia piaciuta e noi ci vediamo al prossimo video